Salve, sono Mr. X. Per comunicarvi che Beppe Marotta tornerà alla Juventus, dopo aver capito che l'Inter sarà prossimo al fallimento, il prossimo anno ci saranno veramente pene molto molto severe verso il club nerazzurro. Ricordiamo con il presidente Zhang, fermato, bloccato, arrestato in Cina l'Inter sull'urlo del fallimento. Quindi vediamo questa bomba che ha lanciato anche Brambati. L'anno prossimo Beppe Marotta insieme a Giundoli lavoreranno per rendere la Juventus invigibile per i prossimi 20 anni.